Il traduttore Il traduttore, poveretto, tende a essere negletto, salvo essere incolpato di aver malinterpretato. Non tanto per me scagionare, o i colleghi nell'errare, ma talvolta è complicato se l'eloquio è intricato. Vi fu un abbaglio geniale, in un'epoca ancestrale, pertanto nave fu cavallo, e tutt'oggi vige il fallo. Professione un po' nell'ombra la nostra, ma sostanziale, la storia lo dimostra.